Il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha scritto al neoministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio per presentare la difficile realtà che stanno vivendo le mestranze e tutto l'indotto della Cantarelli, la storica azienda aretina dichiarata fallita dal tribunale di Arezzo. Assieme a me, scrive Agnelli, anche tutta la giunta è fortemente preoccupata per i dipendenti, ho incontrato alcuni di loro durante le varie assemblee e manifestazioni pubbliche e lo sconforto, oltre alla legittima preoccupazione stampata sui loro volti, missa la più comprensibile rabbia per quanto è accaduto ed è per questo che nutriamo forti dubbi anche sulla fase di conduzione commissariale della crisi Cantarelli. La provincia di Arezzo poi, ed in particolare la Val di Chiana, da qualche anno a questa parte è stata purtroppo l'involontaria testimone di chiusure di diverse, medie e piccole imprese. Questa drammatica tendenza, seppur con motivazioni diverse, ha messo in grossa difficoltà l'intero sistema economico produttivo locale. Ecco perché auspichiamo con crudagnelli l'interessamento del neoministro del lavoro e dello sviluppo economico affinché vengano messe in auto tutte quelle forme di sostegno ai dipendenti. Grazie a tutti.